buongiorno giovanotti e giovanotte benvenuti al nuovo ciclo di lezioni di datomato lo so sono stato assente un po di tempo ho già spiegato il motivo nel mio precedente video però ora siamo di nuovo qui e voglio onorare la mia promessa che ho fatto ormai tanto tempo fa di fare delle lezioni di sulla singular value decomposition quindi non aspettiamo ulteriormente cominciamo subito con la svd molto bene come vi ho detto nell'introduzione finalmente possiamo iniziare questa parte che approfondisce il tema della singular value decomposition ecco questo è un argomento davvero molto importante per perché alla base di tanti metodi non supervisionati gli analisi dei dati eccetera e vorrei affrontarlo una volta tanto in maniera molto dettagliata perché in effetti mi sono reso conto che è difficile trovare un anche un libro o comunque un tutorial che ci dice anche i particolari di come funziona questa tecnica ecco io voglio prima di cominciare voglio solamente avvisarvi queste lezioni sono abbastanza complesse e se non avete davvero facilità nell'uso degli autovalori e degli autovettori beh o ve li andate a studiare io stesso ho fatto delle lezioni in precedenza su questo tema ecco c'è bisogno che conosciate l'argomento autovalori e autovettori molto bene altrimenti non ci capirete nulla ecco se invece questo è un bagaglio che vi portate dietro sicuramente possiamo iniziare con la singular value decomposition e per farlo partiamo esattamente dall'ultimo argomento che abbiamo visto proprio nella parte sugli autovalori e sugli autovettori e cioè da questo ecco partiamo da qui partiamo se vi ricordate proprio dall'ultima slide del corso sugli autovalori e autovettori che poi ho provveduto a dimostrare nei dettagli quando ho fatto l'addendum teorico partiamo quindi da un concetto di una matrice a che è quadrata e simmetrica simmetrica vuol dire che non cambia se invertiamo le righe con le colonne bene se abbiamo una matrice quadrata e simmetrica sappiamo che tutti quanti i suoi autovalori sono numeri reali mentre invece se una matrice quadrata generica gli autovalori possono essere dei gli autovalori complessi e appariranno in coppie di complessi coniugati se la matrice è tutta formata da valori reali invece in questo caso siamo nella situazione di avere una matrice quadrata e simmetrica e sappiamo anche che se questa caratteristica è verificata tutti quanti gli autovettori di questa matrice saranno tutti indipendenti e ortogonali tra di loro sappiamo inoltre che se una matrice è uguale alla sua simmetrica scusate alla sua trasposta e quindi è simmetrica allora se prendiamo la matrice degli autovettori la sua inversa sarà proprio uguale alla stessa matrice degli autovettori trasposta e come vi ho detto in passato questo è un fatto assolutamente straordinario perché a livello computazionale è piuttosto pesante calcolare l'inversa di una matrice mentre invece la trasposizione è un'operazione facilissima e molto veloce inoltre se una matrice non solo è simmetrica ma è addirittura costruita partendo dal prodotto di una matrice quadrata per la sua trasposta allora non solo tutti gli autovalori saranno reali ma saranno anche tutti positivi o al più nulli ecco in questo caso si vede che se la matrice x è formata dalla matrice a quadrata generica per la sua trasposta oppure se la matrice x è formata dal prodotto della trasposta di a per a bene in entrambi i casi x ammetterà autovalori non solo reali ma positivi o nulli questo è il nostro punto di partenza quindi fino adesso abbiamo avuto a che fare con matrici quadrate altrimenti non ha senso proprio calcolare concettualizzare anzi il gli autovalori e gli autovettori e in particolare la matrice può essere simmetrica o addirittura formata dal prodotto di una matrice quadrata a per la sua trasposta bene che succede però se la matrice a è rettangolare fino ad oggi abbiamo detto che è del tutto inutile andare a calcolare gli autovalori gli autovettori per una matrice rettangolare perché una matrice rettangolare non diciamo non ha proprio senso geometrico fare questa operazione ma ci può essere un escamotage ebbene sì perché una matrice rettangolare in generale è una matrice costruita con r righe e c colonne ecco senza perdere di generalità consideriamo che il numero di righe r è maggiore del numero di colonne c possiamo tranquillamente fare il contrario non cambierà nulla per queste lezioni io adotterò questa questa forma cioè che il numero di righe è maggiore del numero di colonne e quindi una matrice generica a con queste caratteristiche avrà una forma rettangolare con il lato se volete verticale più lungo di quello orizzontale il lato verticale indicherà il numero di righe che sarà dato dal valore r e il lato orizzontale il lato più piccolo sarà indicato dal valore c che indica il numero di colonne che formano la matrice ora se noi prendiamo una matrice a e la moltiplichiamo a sinistra per la sua trasposta che cosa otteniamo beh otteniamo una matrice data da a trasposto per a che se andiamo a vedere quali saranno le sue dimensioni finali sarà proprio una matrice quadrata che avrà c righe e c colonne e questo è interessante perché se alla fine pur partendo da una matrice rettangolare possiamo ottenere una matrice quadrata allora forse ancora qualche speranza c'è eccola qui la matrice è questa volta quadrata e appunto avrà c righe e c colonne ma a trasposta per a è simmetrica l'abbiamo visto anche prima anche in generale se a di partenza è una matrice rettangolare infatti se io prendo la trasposta di at per a se vi ricordate la trasposizione del prodotto di matrici è data dal prodotto delle matrici trasposte prese in ordine inverso quindi in questo caso verrebbe la seconda matrice che ha semplice trasposta per la prima matrice che ha trasposta trasposta un'altra volta e questo ovviamente ci dà di nuovo a trasposto per a che è esattamente uguale alla matrice da cui siamo partiti quindi se io invece di considerare a da solo considero il prodotto a trasposto per a vale tutto quello che ho detto all'inizio di questa lezione cioè che la matrice a trasposto per a avrà autovalori tutte reali tutti positivi o al più nulli e tutti gli autovettori saranno ortogonali e reali anche loro eccoci qua gli autovalori saranno reali quindi in generale possiamo scrivere che a trasposta per a che ora avrà delle dimensioni di c righe c colonne moltiplicata per il generico autovettore che ovviamente avrà una dimensione pari a c dovrà essere uguale a lambda autovalore per l'autovettore v che appunto avrà dimensione c quanti autovettori di dimensione c avremo esattamente c come il numero delle colonne perché gli autovettori in questo caso formano una base ortogonale completa in generale scriveremo questa relazione come a trasposto per a moltiplicato l'autovalore generico v uguale a lambda autovalore lambda per lo stesso autovettore v quindi la matrice a trasposta per a a c autovalori lambda j che saranno in generale positivi o al più uguale a zero e c autovettori v j ricordo che questi autovettori saranno ortogonali anzi non solo formano una base ortonormale nel senso che avranno anche lunghezza unitaria quindi il prodotto della trasposta della matrice degli autovettori v per la matrice degli autovettori v in questo caso darà la matrice identità e la matrice degli autovalori v avrà dimensione c righe per c colonne quindi in generale ricordando tutta la parte finale sugli autovalori autovettori la mia matrice a t per a moltiplicata per la matrice degli autovettori v sarà uguale alla matrice degli autovettori v moltiplicato una matrice quadrata diagonale che avrà i valori degli autovalori proprio sulla diagonale principale cioè avremo questo quello che abbiamo visto già in passato dove naturalmente al posto degli autovettori presi tutti insieme io posso scrivere che la matrice v sarà composta da c colonne ognuna delle quali sarà uno degli autovettori e la matrice lambda degli autovalori sarà una matrice quadrata che avrà sulla diagonale proprio gli autovalori lambda 1 lambda 2 fino a lambda c e 0 sia nel triangolo superiore che nel triangolo inferiore della matrice e questo già lo sapevamo ricordo anzi ribadisco ancora una volta che i c autovalori lambda 1 lambda c saranno in generale positivi o se dice male 0 molto bene questo è tutta quanta la premessa che dobbiamo fare per partire con la singular value decomposition a questo punto partiamo da alcuni preliminari prendiamo tutti gli autovalori lambda quanti sono c li chiameremo genericamente lambda j j è un indice che va da 1 a c e li ordiniamo dal più grande al più piccolo il più grande sarà lambda 1 che sarà maggiore di lambda 2 fino a lambda k e avanti così fino a lambda c ma abbiamo detto che alcuni autovalori possono essere 0 quindi in generale diciamo che ci sono k autovalori maggiori di 0 cioè positivi quindi j in questo caso andrà da 1 a k e c meno k autovalori che invece saranno identicamente nulli quindi stiamo suddividendo i nostri autovalori in due parti quelli positivi e quelli nulli ovviamente non è detto che avremo degli autovalori nulli ma siccome in generale ce li possiamo avere dobbiamo considerarlo quindi avremo k autovalori maggiori di 0 e c meno k autovalori uguali a 0 quindi i primi k autovalori sono positivi i c meno k autovalori restanti lambda j con j che va da k più 1 a c sono nulli valgono 0 e tanto per ricordare la faccenda k che ci dice quanti autovalori sono maggiori di 0 sarà in generale minore o uguale a c il numero di colonne che in generale è minore o uguale a r che è il numero di righe quindi se k è uguale c significa che non c'è nessun autovalore nullo e se c è uguale a r naturalmente la matrice è quadrata bella scoperta bene allora e qui parte la magia della singular value decomposition quindi fate molta attenzione definiamo il la variabile sigma j come la radice quadrata del generico autovalore lambda j quindi lambda j sarà sempre pari a sigma j al quadrato siccome tutti quanti gli autovalori lambda sono positivi sigma j saranno a loro volta positivi perché prendiamo solamente la parte positiva della radice quadrata molto bene ora limitiamoci ai soli k autovalori lambda che sono positivi trascuriamo per il momento tutti quelli pari a 0 e definiamo un nuovo vettore q fate attenzione perché qui scatta la grande idea il vettore generico q j il j esimo vettore q j per j che va da 1 a k dove k è il numero di autovalori lambda positivi è uguale all'applicazione della matrice a rettangolare di partenza moltiplicata per il corrispondente auto vettore v j che abbiamo calcolato prima facendo trovando gli autovalori gli auto vettori del prodotto a trasposto per a diviso sigma j che abbiamo appena definito per questo consideriamo solo i primi k autovalori perché ovviamente non possiamo dividere per zero e i primi k sono sicuramente maggiori di zero ecco tenete a mente questa relazione perché l'invenzione di questo vettore sarà il mattone fondamentale per costruire la nostra svd allora v j sono i primi k auto vettori di a trasposto per a e quindi non ne stiamo considerando c meno k e q j avrà le stesse dimensioni di a moltiplicato v j nel senso che a è una matrice con r righe c colonne moltiplicato per l'auto vettore v j che ha c componenti ci darà come risultato un vettore q j che poi sarà diviso nella sua intensità per il sigma j corrispondente che avrà r componenti quindi se l'auto vettore di cui siamo partiti aveva c valori che lo caratterizzavano c componenti q j ne avrà r ne avrà di più in questo caso bene vediamo che proprietà ha il vettore q allora il generico vettore q j abbiamo detto che è dato dal prodotto anzi dall'applicazione della matrice a all'auto vettore v j diviso il corrispondente valore sigma j che succede se io prendo due generici vettori q e li moltiplico faccio un prodotto scalare fra di loro cioè faccio il prodotto fra il generico iesimo al vettore q con indice i trasposto per un altro generico vettore q con indice j beh andiamo a prendere la relazione che sta lì a sinistra e vediamo che viene fuori quindi q i trasposto mi darà v i trasposto per a trasposto diviso sigma i mentre invece q j mi darà a per v j diviso sigma j ma a t per a per v j li possiamo mettere insieme e quindi avremo questa frazione qui ma che cos'è a trasposto per a per v j è esattamente l'equazione agli autovalori di partenza quindi questa dovrà essere uguale a lambda j per v j ma lambda j per definizione è pari a sigma j al quadrato quindi da questa relazione otteniamo che al posto di a trasposto per a per v j ci mettiamo v scusate sigma j al quadrato per v j e quindi andando semplicemente a semplificare sigma j troviamo che questo prodotto scalare fra due generici vettori q i e q j viene sigma j diviso sigma i per v i trasposto per v j cioè per il prodotto scalare fra due generici autovettori v ma gli autovettori formano una base ortonormale che vuol dire che il prodotto scalare fra il generico autovettore v i e il generico autovettore v j verrà 1 solamente se i è uguale a j altrimenti viene 0 e qui viene semplicemente descritto dal cosiddetto delta di kronecker cioè delta i j significa che vale 1 se i è uguale a j 0 altrimenti quindi il prodotto fra cui e q j sarà come abbiamo visto prima sigma j su sigma i per il prodotto scalare fra l'autovettore v i e l'autovettore v j che è uguale al delta di kronecker con indici i j cioè 0 se i è diverso da j 1 se i è uguale a j quindi questo vuol dire che i vettori q j cioè q formano una base ortonormale perché se li moltiplico moltiplico un vettore q per se stesso il risultato darà 1 se invece moltiplico due vettori diversi q il risultato sarà 0 quindi saranno ortogonali e avranno lunghezza 1 quindi ortonormale ma sarà una base incompleta perché beh perché i vettori i vettori q abbiamo detto che hanno dimensioni r ma di questi r io ne sto considerando solamente k k è minore di c che è minore di r ok quindi in realtà io sto costruendo dei vettori che sono ortogonali in uno spazio di dimensione r ma di questi vettori ne ho solamente k che sono pochi per poter descrivere ogni punto di questo spazio ma intanto abbiamo una base ortonormale in uno spazio di dimensione r teniamoci da parte vediamo un'altra proprietà del vettore q ricordando sempre che q generico j è dato dall'applicazione di a sull'autovettore vj diviso sigma j che succede se io moltiplico q i trasposto per a vj poi capirete perché allora se partiamo dalla prima relazione troviamo che l'applicazione di a su vj è uguale a sigma j per q j e andando a trasferire quindi sigma j per q j dentro la relazione di sotto otteniamo che questo è uguale sarà uguale a sigma j per cui i trasposto per q j ma cui trasposto per q j abbiamo detto che è 1 se io uguale a j e 0 altrimenti quindi verrà sigma j per la delta di kronecker di con indice i j quindi in generale il generico vettore q i trasposto per la matrice a rettangolare per l'autovettore vj sarà uguale a un numero sigma j che è la radice quadrata del dell'autovettore vj per il delta di kronecker cioè sarà sempre zero se i è diverso da j e sarà il valore sigma j se i è uguale a j ma questo che vuol dire in termini geometrici allora q j abbiamo già visto prima che ha le dimensioni di a vj cioè siccome a a dimensioni riga per colonna scusate numero di righe per numero di colonne r e c e v a dimensioni c il numero di colonne di a bene facendo questo prodotto si ottiene che q appunto avrà un numero di dimensioni pari ad r quindi q j è un vettore con r componenti quindi ricapitolando sappiamo abbiamo inventato questo vettore q j dato dal prodotto di a per v j diviso sigma j e abbiamo visto che moltiplicando il vettore q i trasposto per av j ottengo 0 se i è diverso da j e invece ottengo il valore positivo sigma j se i è uguale a j e quindi in questa formula lo stiamo scrivendo in maniera sintetica per tutti i valori di indice j e i minori uguali a k e questo vuol dire esattamente ciò che è descritto in questa figura cioè qualunque vettore q trasposto quindi messo in orizzontale che ovviamente può andare da 1 a k in generale avremo k vettori q di dimensione r moltiplicati per una matrice a che avrà r righe e c colonne moltiplicati per il insieme dei vettori vj che sono i primi k autovettori organizzati in colonna da v1 a vk ognuno di questi avrà dimensione c e saranno k in tutto mi daranno cosa mi daranno esattamente una matrice quadrata dove sulla diagonale ci saranno i valori sigma 1 fino a sigma k che sono positivi e saranno k in tutto quindi questa matrice sarà organizzata con k righe e k colonne beh ma se guardate bene questa organizzazione somiglia moltissimo a quello che abbiamo detto per gli autovalori e gli autovettori non è uguale perché naturalmente qui abbiamo a che fare con delle matrici rettangolari però un risultato è una matrice quadrata che ha dei valori non nulli sulla diagonale 0 al di fuori della diagonale e ci ricorda moltissimo gli autovettori da cui siamo partiti e questo è molto importante quindi giovanotti e giovanotte questa è solamente la prima parte della descrizione della singular value decomposition mi raccomando riguardatevi tutto perché è molto importante che capiate bene i dettagli che vi ho appena raccontato nella prossima lezione arriveremo a compimento e vedremo finalmente compiuta la grande magia della singular value decomposition quindi rimanete collegati commentate se avete voglia a me fa piacere in passato avete commentato tanto e io davvero quando mi fate ad esempio delle domande ho piacere a rispondervi e magari a prendere in considerazione le vostre proposte o i vostri commenti e naturalmente se volete farci la grazia di mettere un pollice all'insù noi siamo tutti molto contenti se la mettete col pollice in giù e beh ragazzi io non so più davvero che cosa farvi quindi giovanotti e giovanotte alla prossima su dato mato l'abbiamo Grazie.